Ciao a tutti, allora per fare questo piccolo incanto che è una via di mezzo tra la magia del ghiaccio e la specchiatura abbiamo bisogno di una penna, un foglietto di carta, dell'alluminio da usare dal lato dove riflette sembra che riflette da tutte e due le parti, comunque lo userete dal lato dove riflette, non da quello opaco allora questo piccolo rito serve per allontanare quella gente che ci dà un po' fastidio, che rompe le scatole se si può dire allora si prende il pezzo di carta, ci si scrive il nome, in questo caso Pinco Pallino, vediamo così che almeno non diamo fastidio a nessuno Pinco Pallino, si prende il foglietto di carta, si piega non verso di voi ma verso l'esterno, proprio allontanati vai via e si piega uno, non so se riuscite a vedere bene, si gira così, poi si gira dall'altra parte e si ripiega verso l'esterno e lo pieghiamo in quattro, una volta che è piegato bene in quattro lo pressiamo bene 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 mi ero dimenticata di dire che serve anche l'acqua, si prende un bicchiere d'acqua, ci si mette bene bene si fa bagnare ma proprio bene 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 bene, che assorba bene bene l'acqua perché se no la carta non si congela dopodiché, adesso io per non fare il video troppo lungo e noioso, anche se non si è bagnato bene lo userò così comunque voi stateci un po' di più e continuate a pensare proprio mandandoci la vostra energia tu non mi devi dare fastidio, tu la devi finire di importunarmi, che la tua bocca si tappi finalmente poi prendiamo la carta dal lato dove rispecchia, ci mettiamo dentro questo testimone chiudiamo bene, sempre verso l'esterno, quindi giratelo poi dall'altra parte, ripiegate, rigirate, riripiegate e così via fino a che verso l'esterno, sempre, diventa un pacchettino piccolo così a questo punto vi alzate, lo posizionate nel freezer quando sarà congelato, qualunque cosa questa persona vi dirà che ti venga, noi non diciamo cosa perché siamo gentili qualunque accidente, qualunque cosa ci manderà rimarrà continuamente a rifrangersi tra i due pezzi di carta stagnola quindi se ci dice che ci vengano accidenti chi sbatterà di qua, tornerà indietro, picchierà sempre contro se stesso e a noi finalmente ci lascerà stare vi saluto, un bacio a tutti, ciao